la puntata è offerta da my food and toilet tutto il necessario per il tuo amico a quattro zampe vieni a trovarci nel nuovo negozio in via leado a 354 ben trovati a tutti e a tutte nel salotto di amici per sempre seconda stagione e sono passati pochi mesi e le cose sono un po cambiate perché Monet nel frattempo ha trovato la fidanzata si sono accoppiati hanno avuto cinque bimbi usiamo questo termine insomma ormai è stato sdoganato nel mondo degli esseri umani nei confronti degli animali ha avuto cinque cuccioli tre maschi e due femmine e adesso sono qui in giro per il salotto il salotto degli animali ma come tutti i salotti ci sono gli ospiti e oggi ho un amico un collega Enzo Bucchioni ciao Enzo è un grande piacere ben trovati a tutti ciao Barbara ma sei diventato tifoso della Fiorentina poi? no tifoso no io faccio parte di una generazione di giornalisti che non avrebbero dovuto essere mai tifosi il famoso giornalista super partes anche Valenti sembrava poi dopo a fine carriera disse che era tifoso della Fiorentina infatti la scuola e la generazione è quella lì ora Valenti era un po' più anziano di me però la cultura meglio era quella lì il giornalista non doveva tifare per nessuna squadra addirittura ti posso raccontare che c'erano alcuni che andavano oltre ma in tribuna stampa venivano buttati fuori se c'era qualche giornalista che esultava per un gol c'erano le maschere che diceva scusi ma lei è giornalista o viene qui a fare il tifoso ecco allora si accomodi e ho visto delle scene di questo tipo oggi sembrano surreali inventate ma cosa stai dicendo era così io sono rimasto legato a quel tipo di cultura poi abito a Firenze da 35 anni se la Fiorentina vince ovviamente la città è felice siamo tutti felici perché c'è questo connubio strettissimo fa Firenze la Fiorentina che è difficile ritrovare in altre città a Firenze così quindi meglio che vinca la Fiorentina voglio dire porta energia porta e quindi coinvolto in questo sì ma professionalmente io non tifo per nessuno allora nessuna squadra che insomma tu ammiri no però hai ammirato oh ne ammiro tante sì però hai ammirato consentimi l'assist tre personaggi perché tu hai scritto tre libri su tre personaggi del calcio hai iniziato con Sels Cosmi con il quale ha vinto anche il premio Bancarella sì nel 2003 hai pensato a Luciano Moggi sì personaggio insomma forte forte a volte scomodo però insomma forte sì ma ti posso spiegare perché e poi Luciano Spalletti mi dici perché hai scelto questi tre personaggi e che cosa li accomuna? ma li accomuna forse l'essere contro perché tutte e tre se pensi sono personaggi contro mi intriga il fatto che non sono nessuno dei tre personaggi banali perché sono dei personaggi che ti fanno emozionare poco o che ti fanno discutere poco e questi sono personaggi che cominciava da Sels Cosmi quando è arrivato alla ribalta del calcio era un personaggio naif ricorderete Crozza fu una delle prime imitazioni che fece la fortuna anche di Crozza perché era un personaggio che veniva dai dilettanti è nato in quel mondo lì e ha portato il suo dilettantismo ad altissimi livelli facendosi da solo pur con le contraddizioni infatti poi a un certo punto non ha fatto la carriera che avrebbe potuto fare Sels per le sue qualità è perché poi se non hai un background come si dice se non hai non sei strutturato strutturato anche per le pressioni, le tensioni, l'alto livello il personaggio era intrigante per questo qualcuno che si è fatto da sé ecco forse anche questa può essere la matrice che è di tutti e tre i personaggi Moggi poi è venuto fuori nel 2007 ex ferroviere che poi è diventato ex ferroviere che poi è diventato quello che è diventato ma guarda forse sono anch'io un po' contro devo dire la verità quindi mi intrigano i personaggi contro e contro nel 2000 quindi ti identifichi un po' nel senso proprio non per la pelata no sarebbe facile con spallettica proprio perché ti senti un po' contro il sistema comunque non tanto il sistema ma contro certe stereotipi ecco brava perché io ho questa cultura giornalistica della strada e cosa ti insegnavano una volta? verifica le cose c'è una fonte ma non credere alla fonte vai a vedere se dietro c'è qualcosa il rovescio della medaglia questo secondo me deve essere il lavoro del giornalista e nel 2006 quando scoppiò Calciopoli era facile dire Mogi è tutto quello di male che si può dire mettetelo in galera fate tutto quello che scoppiò nel 2006 lo ricorderete benissimo anche se sono passati tanti anni lo ricordiamo fu un qualcosa che divise il mondo del calcio portò la Juventus in Serie B ma io mi sono chiesto leggendo io cosa ho fatto di diverso dagli altri credo ho letto tutte le intercettazioni roba da diventare matti mamma mia poi torniamo sull'argomento perché mi piace approfondirlo e poi anche Spalletti l'ultima perché Spalletti io l'ho scritto prima che diventasse citi della nazionale è una scommessa vinta te l'ho detto in più di una circostanza perché hai puntato su un personaggio che poi è diventato insomma quello che è diventato insomma il tecnico della nazionale ma anche lui era un po' contro perché Spalletti non era percepito fino agli ultimi successi lo scudetto non era percepito come un grande allenatore scrivendo la sua storia scopri che è un grande allenatore ora lo dicono tutti qui siamo nel mondo degli animali nel salottino degli animali e tu hai un cane vero? io ho un golden retriever di due anni e mezzo si chiama Sole è una femminuccia meravigliosa sì femminuccia meravigliosa meravigliosa che ha portato tanta gioia nella mia casa dove gli animali erano entrati da poco anche due gatti ah ho capito due gatti e poi è arrivato Sole che è diventata la padrona di casa meravigliosa questo nome meravigliosa senti c'è una curiosità perché qui c'è anche lo spazio dedicato all'esperto c'è una curiosità che tu vorresti porgli e lui in qualche maniera ti racconta quale potrebbe essere la soluzione sì una discussione attorno a come gestire l'animale è sempre sull'alimentazione perché parlo del mio cane tende un po' a ingrassare quindi mia moglie è molto attenta all'alimentazione a volte io mi concedo qualche deroga perché quando ti guarda con questi occhioni e dice ma non me lo dai a me e allora qualcosa gli do ecco questo timore fra l'altro sterilizzata la cagnolina e quindi può ingrassare come va alimentata questo è sempre un grande tema che coinvolge anche gli esseri umani gli animali diversi che siamo noi però a volte vedi dei golden un pochino sovrappeso che poi faticano anche a camminare ma io ti do le risposte ma soprattutto è il nostro esperto che ce le dà sentiamo l'obesità cos'è l'obesità? un po' è la stessa cosa che accade nell'uomo è una patologia importante è una patologia nutrizionale dove la caratterizzazione principale è un accumulo è un accumulo di grasso è una patologia come tantissime altre patologie che vede nella prevenzione l'arma migliore purtroppo però è difficile che un proprietario accetti che il proprio cane sta ingrassando magari arriva quando il problema il problema c'è già e questo è un problema che poi si va a riflettere su tutto il benessere dell'animale e purtroppo a volte anche sulla longevità dell'animale non è solo il peso dell'animale che ci dice che l'animale è grasso ma è proprio la sua silhouette cioè come è fatto un cane che ha una testa si stringe al collo si allarga il torace poi si stringe al livello dei fianchi e si allarga al livello delle cosce è un cane ben fatto difficilmente si può parlare di obesità ma quando si cominciano a non vedere più le costole e questa fossa del fianco è riempita da tessuto adiposo e si può cominciare a parlare di obesità i fattori di rischio che sono legati un po' all'obesità sono diversi addirittura la razza in questo caso il Gold Retriever è un cane che come il Labrador tende facilmente ad aumentare di peso lo Springer Spaniel è l'altra razza un po' tutti molossoidi poi il sesso generalmente le femmine tendono ad ingrassare più dei maschi un'altra cosa è la sterilizzazione questa è una cosa che spessissimo comporta un aumento di peso quindi un problema di obesità negli animali sia maschi sia maschi che femmine l'obesità è una patologia molto legata al management cioè un cane che mangia oltre quello che è il suo fabbisogno e si muove poco come le persone tende ad ingrassare come si può trattare un animale che è sovraappeso qui è fondamentale come dicevo prima la prevenzione però è importante una volta che ormai è obeso avere la massima collaborazione da parte del proprietario cioè essere consci che anche se sembra di dar poco da mangiare all'animale l'animale è obeso significa che poco non è ma se un cane ha patologie osse e è grasso questo non si muove nemmeno e siccome la cura per l'obesità è dar meno da mangiare e far muovere di più l'animale se ci sono delle patologie osse l'animale si muoverà ancora di meno e quindi ingrasserà ancora di più e quindi dovremmo darle ancora meno da mangiare ma a tutto c'è un limite Enzo vedi come siamo efficienti a domanda subito risposta sono venuto apposta dovevo chiarire dei dubbi e qui li ho chiariti ora vado più tranquillo qualcosa gli possiamo dare a questi poveri cani io lo faccio perché è tenerissimo non si può non dargli quando si guardano con quegli occhi veramente poi lascio misurare tutte le cose a mia moglie quanti grammi e questo lo fa lei io sono un po' con te gioca e con lei invece si alimenta sì infatti questo è uno dei cruci di mia moglie ma come il mio cane viene da te e viene da te probabilmente perché è una femmina che è innamorata del suo proprietario senti volevo chiederti hai un aneddoto da raccontarci che è legato proprio a sole ma guarda io ti dico la verità gli animali in casa prima di questo ho fatto sempre un po' fatica perché per il lavoro che ho fatto la gestione è un impegno quindi non l'ho mai voluto ora è stato veramente un qualcosa di inaspettato cosa ti ha fatto cambiare idea? mia moglie mia moglie le donne in casa no ma soprattutto perché poi noi abbiamo due figli uno ha pensato bene di andare a Roma un altro ha pensato bene di andare a Milano e quindi c'era il nido vuoto come si dice e quindi i gatti c'erano già e allora facciamo questo passo del cane e la cosa che mi ha colpito di più è andare in questo canile meraviglioso fra l'altro vicino a Siena un casolare in campagna con un allevamento specializzato in Golden e c'è questa nidiata meravigliosa e che fai? come fai a scegliere? e questo è veramente un momento emozionante che mi ha riportato non ai figli perché sarebbe esagerato però è la stessa emozione e allora come fai? io l'ho preso uno in braccio si è un po' agitato lo rimetti giù ne prendi un altro in braccio ma insomma e lo rimetti giù ne prendo sole prendo sole si accoccola mi guarda con questi occhioni è come fosse stato mio e allora quella era mia è il vostro primo cane come si fa a scegliere un cane che poi diventa 40-50 kg invece di partire magari da un pelosetto piccolo piccolo questa è una domanda a cui ci siamo posti il Golden ci hanno detto gli esperti che era un cane più gestibile mia moglie voleva un cane strutturato un cane non un cane piccino un cane un cane le altre sono dei peluche si deliziosi peluche guarda qui ci stiamo divertendo c'è veramente Monet è particolarmente agitato perché ha trovato insieme alla fidanzata sai antichi ricordi forse sente anche l'odore della mia non lo so vedo molta eccitazione e allora come si fa ascoltando consigli di esperti ci hanno detto che il Golden è un animale un cane più gestibile un cane più docile un cane che te lo puoi tenere in casa infatti è così è felice quando è ai nostri piedi siamo guardando la televisione si sdraia lì è felice andiamo in campagna e viene con noi è felice ma senza procurarti io non ho avuto problemi sinceramente temevo di avere problemi con un cane perché non è facile devi essere predisposto tante cose abbiamo preso anche un esperto che ci ha un po' insegnato all'inizio come gestirlo e ti dico che a parte l'intelligenza che è stranotta ma quando lo tocchi con mano capisci veramente che c'è un'intelligenza che va oltre quello che tu possa immaginare ma poi la docilità che ci avevano detto si è verificata non ci dà nessun problema vorrei tornare un attimo al tuo lavoro mi hai detto che ti sei ascoltato hai ascoltato ore e ore ho letto comunque le intercettazioni e ti ha appassionato così tanto e che idea ti sei fatto ma mi ha appassionato perché essendo nel calcio da tanti anni che sia un mondo un po' borderline per certe situazioni non è che cado dal pero come si dice l'ingenuità non mi appartiene se mi appartenesse a questa età ma anche a vent'anni fa insomma serve da farsi delle domande quindi so che il calcio non è un mondo cristallino però vedere il tuo mondo dove hai lavorato per trent'anni con tante cose così gravi dentro mi ha un po' diciamo scioccato usando e allora ho cercato di andare veramente a fondo per capire ma fino a che punto riuscivano a truccare questi campionati c'è veramente uno scandalo di questo tipo e io noi non ce ne siamo accorti che andavamo a vedere le partite tutte le domeniche qualcosina ti eri accorto però non così tanto e allora ho detto voglio vedere fino in fondo dove siamo arrivati e ho letto tutte le intercettazioni 18.000 pagine adesso c'è lo spazio dello sponsor sì dopo me lo dici che idea che sei fatto no appunto perché dopo me lo dici da quest'idea ho scritto il libro perché era controcorrente te lo dico dopo e adesso spazio ai consigli del pet store ciao sono Lisa di MyFoodToilet se il tuo cane o gatto ha problemi di peso scegliere il giusto tipo di alimentazione è fondamentale esistono vari tipi di cibi dietetici possono essere secchi o umidi e hanno un basso contenuto di grassi ma allo stesso tempo contengono tutti i nutrimenti necessari per il benessere del tuo cane o del tuo gatto nei nostri dispenser abbiamo cibo sfuso anche dietetico e patologico delle migliori marche la quantità di cibo sarà più o meno la stessa ma con un apporto calorico minore se il tuo cane è molto vorace puoi utilizzare anche una ciotola slow feeder che lo aiuterà a mangiare più lentamente poi ricordati che oltre ad una dieta specifica il movimento è molto importante se hai un cane portalo almeno due volte al giorno a camminare fallo giocare con qualcosa che lo attrae palla corde giochini vari e lo stesso per il gatto stimolalo a giocare con palline topolini pennacchietti insomma evitiamo che stiano tutto il giorno spalmati sul divano e soprattutto niente boccancini dalla tavola venite a trovarci a myfoodandtoilet animali ben puliti e ben nutriti bene intanto sono qui con l'Achi allora vogliamo avere qualcosa dai ma sì fammi fare il cavaliere dai d'altra parte siamo in un salottino ecco senti allora vorrei alla salute vorrei ritornare sul discorso professionale no senti ma che idea ti sei fatto di quella di quella di quel momento storico del calcio ma guarda Mogi sai quante me ne hanno dette ma allora sei colluso stai collo era un'operazione giornalistica io poi sono arrivato a dire con un iperbole se Enzo Biagi che non ha niente da sportire con me per la sua grandezza io soltanto il nome ci ho comuna ha intervistato a Buscetta che ho sempre usato fatemi intervistare Mogi faccio il giornalista certo ma perché l'ho fatto questo libro perché in questa intercettazione c'è una delle cose che non mi tornavano avendole vissute in certe partite ma poi era evidente c'erano dei risultati sbagliati delle situazioni poi era evidente un'altra cosa non me ne voglia nessuno perché questa è storia le indagini erano state fatte a senso unico non poteva essere soltanto una squadra la Juventus a avere pilotato tutto c'erano delle responsabilità oggettive c'è gente che ha pagato questa non si nega a nessuno però c'era tutta un'altra parte che era stata trascurata e si percepiva chiaramente dentro le intercettazioni che ci fosse qualcosa che non tornasse in questa grande indagine e allora lì ho deciso di scrivere quindi c'erano delle discrepanze no? certamente ma infatti ho scritto il libro per cercare di chiarire la situazione di arrivare a quello che è l'obiettivo di tutti i giornalisti di arrivare alla verità legato a Luciano Moggi sì a Luciano Moggi che spiegava il suo punto di vista che poi spiegava tante volte che dentro il quale c'erano grandi verità lui ritiene di non essere responsabile di nulla ma questa è la sua versione le sue responsabilità non si possono nascondere però c'era come dicevo prima l'altra faccia della medaglia che io da giornalista facendo un'opera giornalistica sono andato a scavare ecco non è stato un libro per fare l'elegia di Moggi vuol dire un santo no è un indagine che tu hai fatto e l'hai voluta raccontare alla ricerca di cose la ricerca della verità anche in un fatto di cronaca così clamoroso che allora torniamo al discorso non è forse mai come te la raccontano ma sono tanti anni no ormai che sei nel mondo del calcio ma te l'hai fatta un'idea quale potrebbe essere la sua squadra ideale ma dal punto di vista emozionale dal punto di vista effettivo è la nazionale del 94 dei mondiali quella che poi finì ai rigori a Pasadena in quel mezzogiorno di fuoco perché era veramente un caldo infernale con le lacrime di Baggio le lacrime di Baresi di quei rigori lì quindi prende la squadra fra l'altro sono i 30 anni nel luglio prossimo sarà 30 anni di quella giornata di Pasadena perché dal punto di vista emozionale l'ho detto è stata un'esperienza straordinaria e ci accomuna un po' tutti i sacchi quei giocatori questa esperienza prima la costa est poi la costa ovest l'America con tutte le sue controlli tu l'hai seguita perché tu hai seguito anche la nazionale per tanto tempo ero lì è stata un'esperienza due mesi in America a contatto con questi giocatori quindi dal punto di vista umano è quella nazionale ma poi ne ho viste tante di squadre la Juventus di Lippi giocava un calcio modernissimo poi lo stesso Milan di Sacchi ha tante squadre che ho seguito ho capito la Sampdoria ecco un altro pezzo del mio cuore è la Sampdoria di Mancini e Vialli che ho cominciato a seguire prima che diventasse grande quindi hai visto crescere questi due gemelli del gol Mancini quando è arrivato bambino dal Bologna io ero alla presentazione quindi un pezzo di cuore calcistico e anche per la Sampdoria so vedi quante sfaccettature ci sono senti ma se tu fossi su un'isola deserta no? sì la famosa isola deserta sì isola deserta non porteresti una scuola di calcio no? no anche no un animale cioè una compagnia chi porteresti? un'iguana no su un'isola deserta no ma non posso tradire la mia sole l'abbiamo appena presa sole da tutti i punti di vista ma sole lì sarebbe opportuno un'isola deserta sole se di sicuro io mi porto il mio sole il mio sole personale che bello particolare che mi illumina come ci illumina la casa tutti i giorni perfetto senti io Enzo ti ringrazio il nostro spazio è finito grazie a voi grazie a te spero che tu sia stato bene sempre un piacere incontrarti grazie mille grazie siamo a casa siamo a casa quando c'è Barbara siamo a casa siamo a casa e allora ringraziamo Enzo Bucchioni grazie a voi per la sua disponibilità mi raccomando a presto libro ci sto pensando ci sto pensando appena ho deciso vieni da me vengo da te nel salotto riveleremo il prossimo assolutamente intanto c'è ancora Spalletti in libreria abbiamo l'Europeo alle porte speriamo che facciamo godiamoci intanto questo libro su Spalletti detto questo io vi saluto ancora Enzo e saluto tutti i nostri telespettatori i ragazzi sono in giro prossimamente li vedrete ancora qui nel loro salotto d'altra parte e ci vediamo alla prossima puntata ciao sono Federica del rifugio del cane oggi voglio parlarvi di Maya questa bella ragazza qui da noi dalla scorsa primavera è arrivata con i bimbi i bimbi sono già a casa è più facile piazzare i bimbi che non la mamma è un cane diciamo di una certa erovenza così come sono questi animali però l'equazione cane grosso cane pericoloso è sbagliata ogni cane ha il suo carattere ha il suo modo di essere così come lo abbiamo noi umani per cui non posso dire grosso sarà pericoloso no la sua pericolosità sarà del padrone che sarà in grado di gestirla lei di pericoloso non ha niente è chiaro che è un cane che ha bisogno dei suoi spazi in un appartamento ci sta un po' più scomoda però una volta adottata eventualmente potrà seguire un percorso qui con la nostra educatrice che sarà in grado di dargli indicazioni più precise nel come tenerla e contenerla una volta adottata secondo me sarà in grado di dimostrare tutto l'amore che ha anche per dimenticare il suo passato perché molte volte questi animali hanno un trascorso brutto e qui da noi cercano una rivalza tra i vi appuntamento potete venire a conoscerla tranquillamente e saremo in grado di darvi indicazioni anche più precise grazie a tutti come sempre ciao a vedi sta là guarda che si infili la mano la vi ecco bra guarda te da una zampa io da te qua te la spingo ma si levi la mano come la piamo scusa porca putt devo fare sempre tutto io qua dentro guarda se fosse una volta che mi riesce a dare la mano la puntata è offerta da my food and toilet tutto il necessario per il tuo amico a quattro zampe vieni a trovarci nel nuovo negozio in via Leado a 354